È servito l'incidente accaduto al ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, rimasto in panne con un'auto di scorta nel suo ultimo viaggio Padova-Roma per riportare alla luce la difficile situazione in cui versa la Polizia di Stato, rimasta oramai senza vetture per il normale pattugliamento. Questa è la situazione nella città del Santo. Su 258 vetture a disposizione e 17 per il servizio volanti, di queste 12 hanno ben 250.000 km, 3 vanno oltre. L'80% delle rimanenti sono adattate agli andare e non possono essere messe a norma perché il ministero ha tagliato i fondi. Si tratta di autovetture che sono in servizio 24 ore su 24, per cui hanno un'autonomia minore rispetto ad un'auto guidata da un privato. Di contro impongono una manutenzione costante che ha dei costi eccessivi. Una situazione che ha dell'assurdo e che va a sfavore del cittadino al quale non viene garantito il servizio di sicurezza. A lanciare l'allarma il sindacato del COISP. I tagli, così come sono stati apportati da parte del governo, sono irrazionali, illogici, perché vanno contro l'efficienza e la perfetta funzionalità delle autovetture. Autovetture, che ricordo, sono al servizio del cittadino. Un'autovettura in meno fuori per strada, un pattugliamento in meno, significa sicurezza in meno. Noi chiediamo che i governanti, che i loro colori che sono preposti per far quadrare i conti dei bilanci, innanzitutto si adoperassero a sfruttare intelligentemente la razionalizzazione dei costi. Non si può portare avanti una politica indiscriminata dei costi. Ci sono delle priorità da rispettare. Si tagliano le spese superfue, ma si mantengono sempre copiosi i capitoli di bilancio che servono per rendere la Polizia di Stato efficiente e perfettamente funzionale.